Io sono molto contento, abbiamo perso dei punti per strada per tante situazioni, però questa squadra oggi ha dimostrato dominando dall'inizio alla fine. Abbiamo subito due gol su due tiri in porta, però la squadra non si è abbattuta perché dominando abbiamo subito due gol, andando in svantaggio nello spogliatoio ammazzavano un toro, invece la mia squadra oggi ha reggito, oggi la squadra si è comportata da squadra, sempre e comunque, quindi sono straorgoglioso dei miei ragazzi perché hanno dimostrato di avere grossi attributi. Quindi bene, è un'ipoteca importante oggi, oggi abbiamo dato una grossa spallata al nostro obiettivo iniziale che sfido chiunque, guardo la telecamera, le guardo negli occhi, sfido chiunque se inizialmente credevano che il Messina potesse fare questo tipo di campionato. La squadra ha dimostrato un gran carattere, ha dimostrato lo spirito che ci ha sempre contraddistinto e soprattutto faccio un gran complimento a tutti i miei compagni. Dedichiamo questa vittoria al mister e a tutte le persone con cui ci sono vicini. Sappiamo la situazione difficile del mister, noi gli siamo vicini e ci godiamo questi tre punti. La cosa più importante era la vittoria perché questa partita era veramente fondamentale per noi perché per me è una partita che vale nove punti. Nove punti perché eravamo a sede in Monopoli, se perdavamo andavamo a tre e grazie a Dio abbiamo vinto e siamo a nove. Quindi è una partita per me, per i nostri obiettivi, da nove punti. Grazie.